Ciao ragazzi, è tanto che non ci si vede e oggi volevo parlare della serie Caped Crusader, il nuovo cartone animato prodotto da Bruce Thiem, Matt Reeves, Ed Brubaker e J.J. Abrams dedicato al personaggio di Batman e questa serie era stata annunciata qualche anno fa e per un po' non se ne era sentito niente e all'improvviso qualche mese fa avevano detto esce ad agosto all'improvviso e adesso è uscita e io ci ho messo un paio di giorni a vederla tutta perché ho avuto delle cose da fare e volevo parlarne su questo canale perché ovvio che ne devo parlare perché appunto personaggio di Batman, perché sono coinvolte persone che mi piacciono come Matt Reeves e Bruce Thiem che però allo stesso tempo Bruce Thiem ha anche dato alcune coscienti delusioni negli ultimi anni tipo Batman e Harley Quinn che io ho detestato e The Killing Joke l'ha prodotto e che ho scritto lui la versione animata e anche quella la odio come sapete bene e quindi io ho molto rispetto per Bruce Thiem, tanta gratitudine per quello che aveva fatto per la serie animata degli anni 90 e quell'universo lì ma ero anche un pochino preoccupato altre persone coinvolte tipo Ed Brubaker secondo me è un ottimo scrittore e ha scritto anche delle ottime cose di Batman quindi ero abbastanza contento del suo coinvolgimento J.J. Abrams così così la cosa di J.J. Abrams è che dipende sei più produttore o sei più sceneggiatore J.J. Abrams perché quando è produttore va bene, quando è sceneggiatore un po' meno e comunque ecco parecchia attesa per questa serie e parecchie curiosità tra l'altro piccola nota che non c'entra niente, nuovo microfono ragazzi spero che l'audio vi piaccia e che sia buona la qualità perché è la prima volta che lo uso ma volevo finalmente darvi una qualità audio migliore e spero che funzioni allora, Caped Crusader com'è questa serie? a me ragazzi la serie è piaciuta secondo me è un buon adattamento del personaggio è un nuovo punto di vista che ho trovato interessante secondo me è una buona serie io sono rimasto soddisfatto se dobbiamo fare un confronto rispetto alle serie animate io direi che non mi è piaciuta quanto la serie animata degli anni 90 e direi che probabilmente però mi è piaciuta di più di The Batman la serie animata quella del 2004 che non ho niente contro quella serie ragazzi però non mi ha mai preso tantissimo era un pochino troppo incentrata sull'azione quella e questa fa più per me perché è più incentrata su misteri, atmosfera e noir e mi è piaciuta l'ambientazione di questo mondo mi è piaciuta, come dire, allora fondamentalmente si rifà la golden age la golden age dei fumetti era negli anni 40 e questa serie si svolge in degli anni 40 alternativi nel senso che chiaramente non sono gli stessi esatti anni 40 che sono esistiti però il look è ispirato profondamente negli anni 40 la tecnologia è limitata a quello che era disponibile negli anni 40 che è interessante perché la serie animata degli anni 90 invece è chiaramente grande influenza degli anni 30 e 40 in quella serie ma la tecnologia era del presente e le serie dopo tipo Justice League eccetera sono il presente era un po' senza tempo che io ho sempre amato come cosa qui è un po' più strettamente legato agli anni 40 e questo mi è piaciuto non è il mio mondo preferito in cui svolgere una storia di Batman preferisco il presente agli anni 40 ma l'ho apprezzato e questa cosa l'hanno presa molto a cuore perché i riferimenti agli anni 40 ci sono in tante cose chiaramente si sono ispirati ai film degli anni 40 ai noir degli anni 40 anche la musica è molto anni 40 in certi pezzi molto come vecchi film in bianco e nero tutta questa roba io l'ho apprezzata molto devo dire di atmosfera ora a livello di animazione l'animazione è buona e fluida è molto piacevole da guardare dal punto di vista di regia ci sono dei tocchi belli non è il cartone visivamente secondo me più eccezionale fatto con il personaggio di Batman ma funziona tutto alla grande non ci sono errori è tutto molto professionale chiaramente perché sono professionisti che l'hanno fatto e soprattutto sono professionisti con un budget migliore di altri progetti degli ultimi anni perché certe cose animate della DC negli ultimi anni secondo me si vede che l'animazione era stata un po' tagliata hanno fatto del loro meglio ma è uno non l'unico ma uno dei motivi per cui Killing Joke secondo me non è un granché di film e che a parte qualche sequenza l'animazione è abbastanza dozzinale Gotham by Gaslight che mi è piaciuto l'animazione sembra quella di un cartone della mattina, del sabato di quelli non altissimo profilo in certi punti questa serie secondo me ha una qualità di produzione superiore alla media degli ultimi anni ed è una cosa che ho apprezzo e penso che abbiano si siano messi in impegno e appunto c'è tanta gente coinvolta tra cui appunto Matt Reeves che al momento gli hanno affidato l'universo di Batman al cinema uno degli universi di Batman al cinema e c'è G.J. Abrams che ragazzi tutte le critiche Abrams sono legittime rispetto a come regista e sceneggiatore figuratevi però lui negli anni ha prodotto un sacco di cose che hanno avuto successo e soprattutto ha sempre avuto le sue cose fanno sempre un sacco di soldi quindi se lui è coinvolto solitamente io mi aspetto un budget decente per le cose anche nelle cose brutte solitamente c'è un budget decente coinvolto e si vede anche qui questo secondo me quindi ecco ora parliamo voi dovete sentir parlare più della serie in quanto tale però allora a me la serie è piaciuta allora non c'è un episodio che mi piace quanto i miei preferiti in assoluto del cartone degli anni 90 ci sono episodi che mi piacciono quanto è però alcuni dei migliori non magari i miei preferiti preferiti ma ci sono due tre episodi in questa serie che sono all'altezza di episodi che mi piacciono molto del cartone degli anni 90 episodi qui a cui io darei un 8 su 10 ci sono la media di questa serie per me è un 7 su 10 e non c'è nessun 9 10 questo ve lo dico per questo dico che non è una serie fantastica dico che è una bella serie e ecco voglio però dire invece per spezzare una lancia a favore di questa serie che per quanto io amo il cartone degli anni 90 qualche episodio che è brutto ce l'ha non meno bello brutto un paio ci sono ragazzi io un paio di 4 su 10 li ho dati su quella vecchia serie il mio episodio più odiato di quella serie si chiama il terribile trio io detesto quella puntata non c'è niente così qui nulla è sotto il 7 per me qui forse 6 e mezzo forse 1 nulla è insufficiente qui quindi ok non ci sono i picchi della serie animata però non ci sono neanche alcuni punti bassi che quella serie per quanto l'amo aveva toccato e quindi qualità media è questa dal punto di vista di doppiaggio mi sono piaciuti tutti io l'ho visto in inglese ragazzi tutte le voci mi sono piaciute e quello che mi è piaciuto di più a livello di performance in tutta la serie probabilmente è il doppiatore che ha fatto Basil Carlo e veramente forte quel tizio quella puntata è una gioia per le orecchie in particolar modo tutti bravissimi i progetti a cui ha lavorato Bruce T hanno sempre avuto ottime voci e Basil Carlo probabilmente la mia voce preferita il nostro Batman mi è piaciuto molto e trovo che fosse un buon modo di ricordare un po' Kevin Conroy ma anche fare una cosa sua era appropriato agli anni 40 perché quando fa il Bruce Wayne aveva un po' quel modo di parlare degli anni 40 dove sono tutti un po' eccessivamente allegri nei film degli anni 40 a volte e Bruce Wayne sta fingendo di essere allegro perché non lo è e mi è piaciuto l'ho trovato appropriato la sua voce da Batman mi è piaciuta mi sono piaciuti tutti devo dire a livello di voci non ho critiche non c'è nessuno che stonava per me e questo è un'ottima cosa a livello di caratterizzazione e questa è la cosa probabilmente di cui parlerò di più prima di entrare negli spoiler a livello di caratterizzazione finita la serie io mi reputo soddisfatto mi piace quello che hanno fatto con Bruce e con Batman sono temi che abbiamo già visto con il personaggio mi piace come li hanno toccati non vi dico che è la mia versione preferita del personaggio questo no forse neanche una delle mie versioni preferite del personaggio io ne ho tante ragazzi va detto questo ma mi è piaciuto è simile mi ricorda un po' per certi versi Arkham Origins e The Batman ovvero un Bruce e Batman più tormentato e arrabbiato della media delle interpretazioni un Bruce e un Batman che stanno ancora faticando parecchio per togliersi di dosso il trauma che non se lo toglie mai Batman di dosso il trauma ma non hanno ancora imparato neanche a gestirlo al 100% neanche al 90% e qui c'era un po' di quello ed è sempre una cosa che io trovo interessante fin tanto che non scadi in certi errori che questa serie per me non fa io questo ve lo dico se ne iniziate c'è un percorso il personaggio fa un percorso nel corso della stagione ed è una cosa che ho apprezzato ho apprezzato anche come hanno cambiato varie cose di Bruce e Batman sfumature hanno cambiato cose l'hanno amplificate alcune non c'è niente qui che sia un cambiamento dal mio punto di vista drammatico del personaggio è solo che si sono concentrati più su certe cose piuttosto che altre altri personaggi li hanno cambiati abbastanza invece e non c'è nessuno che per me non ha funzionato ce ne sono alcuni che hanno funzionato meglio di altri e allora la loro versione di Harley Quinn mi è piaciuta moltissimo Harley Quinn negli ultimi anni è diventata spesso un po' opprimente e fastidiosa in certe storie e a volte semplicemente la usano come una Deadpool femminile che a molti piace legittimo sono gusti non è la cosa che preferisco io del personaggio non lo è mai stato io credo che Harley funzioni meglio quando è divertente in un modo un pochino meno sopra le righe e quando c'è un fondo di tragicità ti fa tenerezza perché è tragica la storia di Harley e l'ultima versione che mi era piaciuto era stata nei giochi Telltale e qui mi è piaciuta tantissimo la mia versione preferita di Harley in anni l'hanno completamente modificata quando parlerò degli spoiler ci parleremo meglio però questa Harley mi è piaciuta tantissimo è un ottimo modo di rienterpretarla e mi piace il fatto che Bruce Thiem che è un co-creatore di Harley Quinn ci abbia lavorato perché evidentemente anche lui voleva vedere un nuovo punto di vista e io io approvo io sono contento mi è piaciuto quello che hanno fatto con Basil Carlo mi è piaciuto quello che hanno fatto con Firefly mi è piaciuto quello che hanno fatto con Due Facce e mi è piaciuto quello che hanno fatto con più o meno tutti quelli che compaiono nella serie c'è una puntata che ha vari non so se chiamarli camei comparse di personaggi iconici rielaborati che io ho trovato assolutamente adorabile come l'hanno gestita e sono bambini questi personaggi e non sono bambini la versione che conoscete non sono tutti bambini però qui sono tutti bambini e sono adattamenti di personaggi iconici resi bambini e quello che hanno fatto con quella puntata a me è piaciuto tantissimo una delle puntate migliori in assoluto della serie top 3 senza ombra di dubbio ottima puntata davvero e quindi ecco mi è piaciuto che mi hanno rielaborato queste cose qui alcuni rapporti alcuni personaggi li hanno estremizzati alcuni che nei fumetti solitamente sono un po' più anti-eroi qui li hanno resi un po' più cattivi alcuni che erano cattivi li hanno resi più cattivi e alcuni che erano buoni gli hanno dato un pochino più difetti e questo è come modo di rimescolare le cose l'ho apprezzato i design mi sono piaciuti più o meno tutti mi piace molto il costume di batman che fondamentalmente è quello della golden age senza i guanti viola che non ce l'ha avuti sempre però nel senso è tipo un po' la prima apparizione di batman ma senza i guanti viola ricorda vagamente Darwin Cook perché Darwin Cook si rifaceva molto la golden age mi è piaciuto molto il feel dei design di queste cose qui e i personaggi che mi hanno un pochino più deluso sono pinguino e catwoman non per la perché quando è stato detto che c'era una pinguino femmina tante persone si sono scandalizzate il politicamente corretto eppure qui è rovinata eccetera ragazzi è una un adattamento tra decine perché batman è una delle cose che è stata adattata di più probabilmente nella storia della narrativa e non so quante versioni esistono di batman fondamentalmente è un altro universo questo se vogliono fare una versione di un personaggio che è di un altro sesso o non sia mai che ha un altro colore della pelle non finisce il mondo e il mio problema con questa versione di pinguino non è minimamente il fatto che sia donna ma che era un po' una gangster banale e questa è una cosa che io l'ho trovato un pochino come dire deludente perché io trovo che il pinguino qualsiasi versione sia più interessante quando gli aggiungi qualcosa in più che sia l'essere stato abbandonato come in batman in ritorno e il suo odio per i primogeniti di gotham che sia il suo complesso di inferiorità e il suo desiderio di rivalsa come in certi fumetti tipo come in il manicomio del joker la storia del pinguino o in come orrore e pregiudizio mi pare si chiamasse quella storia del pinguino o come il pinguino di Colin Farrell appunto voler dimostrare di essere un pezzo grosso effettivamente gli devi dare qualcosa che lo fa sentire inadeguato e lo rende rabbioso e questa pinguino è molto è sicura di sé è potente è ricca e semplicemente è una gangster ha dei piccoli tocchi che mi sono piaciuti è doppiata molto bene da Minnie Driver che è un'ottima attrice che a me è sempre piaciuta dai tempi di Guilante Ingenio Ribelle mi piace ha dei tocchi carini a livello di gangster come punisce le persone abbastanza inquietante non è tra le mie versioni preferite però del personaggio se fosse stata un uomo starei dicendo le stesse esatte cose ok Catwoman è molto si rifà alla Golden Age nel costume nel comportamento in come è scritta questo vuol dire che è una ladra e basta pochissima pochissimo spessore è una ladra e basta è fatta bene doppiata bene è animata bene il design è quello Golden Age il vestito lungo che io ho sempre trovato buffo ma è fedele a quello ok non è tra le mie versioni preferite perché Selina mi piace di più quando ha altre cose non è solo che vuole rubare ma ha una sua storia personale o vuole aiutare qualcuno o ha un conflitto interiore su cosa fare non dico che tutto deve toccare gli estremi di Batman in ritorno dove Selina è instabile mentalmente ma roba tipo Ash tipo The Batman tipo il colpo grosso di Selina di Darwin Cook il personaggio ha più complessità in storie come quella anche nel cartone quello degli anni 90 e qui era un pochino troppo bidimensionale e la cosa un pochino mi è dispiaciuta e mi dispiace dover dire che Selina è l'aspetto che mi ha deluso di più tra i personaggi iconici in questa serie questo mi dispiace mi è piaciuto questo Gordon mi è piaciuta molto questa Barbara mi piace come sono partecipi della storia e nel caso di Barbara in un modo diverso dal solito che ho apprezzato mi è piaciuto Harvey Harvey Dent non è particolarmente diverso dalle versioni che conoscete ma mi piace come l'hanno gestito qui come adattamento e ecco e ci sono un paio di altre cose che non posso dire perché rappresentano uno spoiler ma questa è la visione complessiva prima di andare vorrei parlare puntata per puntata un pochino dico solo 8 su 10 alla serie nel suo complesso tra il 7 e mezzo e l'8 su 10 nella serie nel suo complesso nessun episodio che ho odiato varie cose che mi sono piaciute molto 2-3 episodi che mi sono piaciuti veramente molto e nulla che mi ha dato particolarmente fastidio ci sono dei punti deboli qua e là e se dovessi dire la cosa che ho trovato a livello generale un pochino più un difetto è che numero 1 la sensazione che la storia perché è episodico ma c'è una trama di fondo la trama di fondo per me si avvia a metà stagione un po' tardi e ci sono un paio di rapporti tra i personaggi che verso la fine ti viene detto che sono forti i rapporti tra questi due personaggi e secondo me questo non è stato effettivamente giustificato da cosa abbiamo visto io lo accetto perché me lo dicono e perché so che nei fumetti è così qui hanno dovuto un po' tagliare i tempi e secondo me questo si vede e ecco questo questo volevo dirlo e però mi è piaciuto nel complesso come sentite adesso vorrei parlare in dettaglio episodio per episodio sono 10 puntate se non avete visto il cartone non guardate questo pezzo oppure se non vi interessa guardatelo lo stesso ma sappiate che io parlerò di dettagli della trama che sono importanti quindi 3 2 1 prima puntata è il pilota l'episodio pilota l'introduzione di questo mondo ed è la puntata incentrata sul pinguino questa è la puntata più fiacca della serie che non vuol dire che è brutta ma è fiacca introduce il mondo introduce le dinamiche capisci subito che Bruce è abbastanza freddo e è ok capisci come è fatto il mondo capisci che la polizia non ha prova di di Batman ovviamente ti fanno vedere un po' come è la situazione Harvey Dent procuratore distrettuale senza scrupoli e con con un po' di corruzione alle spalle Barbara è un avvocato indefesso che fa del suo meglio e così via Gordon è abbastanza il classico Gordon introduce il mondo il problema è che la trama di base non è molto interessante cioè il pinguino sta usando razzi per far esplodere i magazzini di Thorne non è la cosa più appassionante del mondo non è infatti un paio di persone che conosco dicono che non hanno continuato dopo il primo e che ci torneranno poi perché effettivamente è un inizio un pochino fiacco io a questa puntata darei un 6 6 e mezzo su 10 7 se proprio voglio essere gentile per l'animazione il livello di produzione ma fiacco questo episodio devo dire l'azione è buona e tutto quanto ma episodio fiacco devo dire il secondo episodio invece è quello con Basil Carlo ovvero Clayface ed è un un'impennata rispetto al primo episodio io capisco che la trama un pochino si regge sul fatto che già conosci Gordon e già conosci Batman e così via però se fosse stato adattandolo un pochino questo il primo episodio del cartone credo che molta gente sarebbe stata più entusiasta perché questo episodio è molto divertente è uno dei migliori della serie e mi è piaciuto un sacco perché allora a me piace il Clayface dei fumetti vecchi mi piace il Clayface che non è un mostro che cambia forma a piacere ma che è più un criminale che può cambiare la sua faccia se ci si mette proprio se la sposta e tutto quanto il tono di questa puntata come se fosse appunto un thriller degli anni 40 mi è piaciuto molto è un buon mistero perché tu conosci Basil Carlo e sai che nei fumetti è Clayface ma ti chiedi se non stanno cambiando la sua storia e come lo stanno facendo ci sono dei morti strani ci sono delle cose che non tornano è una buona puntata è un'ottima puntata io a questa darei un 8 e 10 senza altro una di quelle che mi sono piaciute di più io ho visto il primo episodio e il secondo la stessa sera e il primo era un po' così e poi ho iniziato il secondo e ho detto uh ok adesso adesso sono preso adesso si che sono coinvolto terzo episodio è quello su Catwoman come vi ho detto Catwoman è la cosa che mi ha deluso un po' di più a livello di adattamento non vuol dire che la puntata non sia molto divertente perché lo è la chimica con Bruce rimane molto forte e ha dei momenti questa puntata in generale che mi sono piaciuti molto la governante di Selina personaggio bellissimo l'ho trovata molto divertente e Bruce comincia a mostrare alcuni livelli di vulnerabilità qui che mi sono piaciute e come cose qui è anche la puntata dove Bruce inizia ad andare in terapia da Arlene Quinzel e è forte il fatto che appunto è sempre più chiaro come lui non ha elaborato niente è ok che Bruce ha sempre in tutte le versioni dei problemi a gestire il suo trauma ma qui è proprio chiaro che lui non è che l'ha elaborato in un modo forse un po' malsano l'ha proprio non represso ha deciso di di non concentrarsi su come si sente mai e e ha dei problemi per questo e questo lo porta aggredire un giornalista in una scena che mi è piaciuta molto perché questo giornalista sta facendo dei commenti su come la madre di Bruce era stata stupida ad andare in giro con delle perle così costose e Bruce gli dà un cazzotto lo sente gli dà un cazzotto ed è forte perché succede dopo tre puntate dove lui ha sempre cercato di sembrare il Bruce Wayne pubblico ridanciano tranquillo e tutto quanto ed è un errore dare un pugno a questo giornalista nel senso che sta andando contro i suoi piani quando lo fa ma è più forte di lui a me è piaciuta molto come scena buon episodio divertente non la mia versione preferita di Catwoman non vuol dire che sia una brutta versione di Catwoman però così come quella non era una brutta versione del pinguino e io a questa puntata darei un 7 su 10 sinceramente la quarta puntata è quella con Firefly invece e devo dire che è questa è su Firefly e sulla creazione di una task force per catturare Batman questa mi è piaciuta molto mostra un lato abbastanza cupo della polizia di Gotham mostra il suo lato migliore con Montoya e Gordon Montoya mi è piaciuto molto come l'hanno fatta in questo in questo cartone e io spero vivamente che non ci sia gente che ha criticato anche Montoya per essere troppo politicamente corretta perché ragazzi Montoya è omosessuale nei nei fumetti da un bel po' di tempo quindi spero veramente che non sia stato criticato anche questo perché è una cosa di Montoya questa Montoya è omosessuale nei fumetti quantomeno bisessuale ma credo proprio omosessuale nei fumetti quindi ok detto questo mi è piaciuta la cosa della task force mi è piaciuto i loro tentativi di catturare Batman mi sono piaciuti sono intelligenti solo che Batman è più intelligente di loro e Firefly mi è piaciuto molto come lo hanno adattato c'è una scena come Firefly vede il mondo che mi è piaciuta tantissimo Firefly è sottovalutato come cattivo questa versione mi è piaciuta bella puntata molto buona sette e mezzo su dieci direi non mi è piaciuta quanto quella di Clayface ma è probabilmente la seconda migliore finora il che ci porta alla quinta puntata quella con Harley Quinn ottima puntata ottima puntata parliamo un attimo di Harley Quinn Harley Quinn in questo cartone è forte perché è completamente rigirato come personaggio è allegra è ridanciana equilibrata quando è la dottoressa è una brava psicologa è brava in quello che fa è molto intelligente è acuta capisce le persone è solare è vivace quando diventa Harley Quinn è fredda è crudele è cattiva non ride è un clown arrabbiato e io questa rielaborazione l'ho apprezzata tantissimo è completamente diverso da quello che hanno mai fatto ed è completamente diverso dagli ultimi anni fredda crudele che punisce i suoi pazienti peggiori con una legge del contrappasso fondamentalmente ricchi soprattutto i suoi pazienti sono quindi questa gente corrotta che ha fatto un sacco di cose schifose e lei li punisce punisce il loro egoismo e sfrutta ciò che sa di loro per via del del fatto che è il loro psicologo e li punisce in un modo appropriato in un modo ironico e cercando di fare a suo modo giustizia però io l'ho apprezzato moltissimo secondo me è la versione migliore di Harley da un bel po' di tempo mi è piaciuta un sacco sinceramente ottima puntata questa 8 su 10 io approvo questa versione di Harley Quinn sarò felice di rivederla in futuro e sono curioso di vedere come si collega eventualmente con un joker o con altre cose se si collega è come lo fa perché chiaramente è un'altra storia questa e niente sarò curioso devo dire piaciuta approvo 8 su 10 questa puntata allora la sesta puntata è quella sul fantasma c'è una puntata dove c'è effettivamente un fantasma e c'è il sovrannaturale c'è questo fantasma di un ricco egoista del settecento che vuole punire i poveri perché si crede migliore di loro e pensa che la città ha rubato alla sua famiglia ciò che gli spettava in quanto ricchi di stirpe di sangue blu quindi uno può anche vederla come una versione negativa di bruce bruce è il ricco che ridà la città questo è il ricco che toglie la città puntata carina divertente scritta bene non ho particolari critiche non mi ha preso tanto perché a me ragazzi il sovrannaturale in questo senso nelle cose di batman cioè i fantasmi e le magie mi risultano sempre un tantinello fuori posto a me il sovrannaturale in batman piace quando è un po' non i fantasmi più tipo le fosse di lazaro o le mutazioni o la fantascienza in quel senso i fantasmi mi risultano sempre un pochino fuori posto e per carità non sono fuori posto esistono i fantasmi nel mondo di sì esistono personaggi che sono fantasmi nel mondo di sì esiste tanta gente che è morta e è diventato un fantasma nel mondo di sì dico solo che in una serie esclusivamente di batman che non è la justice league un episodio con un fantasma non è una cosa che mi fa impazzire e avrei preferito che venisse fuori che era qualcuno che si fingeva un fantasma pensavo fosse quella la questione invece no è proprio un fantasma e va bene e sono sicuro che ci sarà gente a cui questa cosa è piaciuta le storie di fantasmi non sono le mie preferite gusto personale puntata assolutamente valida 7 su 10 non è una brutta puntata non è tra le mie preferite di questa stagione personalmente però questo lo devo dire allora la settima puntata invece è interessante perché praticamente c'è viene messa una taglia sulla testa di Jim Gordon apparentemente in realtà no non è su di lui viene fuori e che è su Barbara e vengono mandati dei sicari a cercarli e uno di questi sicari è Cacofonia un personaggio inventato da no Cacofonia scusate Cacofonia la storia onomatopea personaggio inventato da Kevin Smith che io non mi sarei mai aspettato di vedere in una serie animata divertente come puntata è classica cosa mercenari scappare il gioco del gatto col topo non ti puoi fidare di nessuno polizia corrotta e tutto quanto l'alleanza tra i Gordon e Batman si rafforza bella puntata divertente onomatopea mi è piaciuto molto io onomatopea lo trovo molto divertente come personaggio ho trovato divertente come l'hanno usato qui buona puntata sette e mezzo su dieci mi è piaciuta questa puntata non sto dicendo i nomi delle puntate ragazzi perché credo che se l'avete vista vi dico cosa succede e capite prima che se vi dico il nome ottava puntata l'ottava puntata è quella di cui parlavo prima che è una delle mie preferite in assoluto della serie ovvero quella con gli adattamenti di Dick Grayson Jason Todd Stephanie Brown e Carrie Kelly ovvero i Robin dei fumetti non tutti ma quattro dei Robin iconici dei fumetti qui sono bambini sono orfani che vengono coinvolti in questa storia in questo mistero che è fondamentalmente una storia di vampirismo non viene credo mai detta la parola vampiro non è un vampiro che beve il sangue ma è questa ragazzina che è un vampiro perché succhia l'energia dalle persone e questi bambini vengono coinvolti e Batman deve capire che sta succedendo puntata che io ho trovato estremamente valida una delle migliori puntate della stagione e probabilmente il punto dove sono passati dal mi piace Batman perché amo Batman come personaggio a mi piace questo Batman perché il modo in cui gestisce questa questione è un momento di crescita importante per questa versione di Batman fondamentalmente qui ragazzi fa un percorso come il film di Matt Reeves con Pattinson dove parte che è vendetta e man mano si rende conto che deve fare di meglio e deve essere più empatico più umano che deve trovare quell'equilibrio non ha finito ancora ma sta iniziando questa versione e qui si vede perché tratta questa vampira questa bambina con molta umanità e mi è piaciuto molto come la tratta alla fine e come la vuole aiutare non punire e mi è piaciuto un sacco i bambini i Robin mi sono piaciuti tantissimo Carrie Kelly con la fionda fantastica veramente molto carino come tutti alla fine fanno la loro parte Carrie praticamente salva Batman carinissimi mi è piaciuta tanto questa puntata era un po' questa era la puntata che sembrava un po' più un Hell's World perché appunto sono molto diversi queste versioni di Robin poi Carrie Kelly neanche esiste nel presente originariamente non è non dovrebbe essere nello stesso periodo degli altri Robin e fortissimo mi è piaciuta molto questa puntata veramente questa io direi che è un 8 pieno su 10 veramente questa può anche essere un 8 e mezzo secondo me su 10 molto carina veramente forte questa puntata e poi abbiamo le ultime due puntate di cui parlerò insieme perché sono le puntate su Harvey Dent e Due Facce e per molti versi questa è la classica storia di Harvey Dent e Due Facce viene ferito al volto qui è perché non ha aiutato la mafia ha aiutato lui e lui decide di non aiutare la mafia e la mafia lo punisce perché era corrotto è diverso ma è simile non è Maroni è Rupert Thorne ma è simile c'è la cosa che appunto la sua psiche viene distrutta e viene fuori questa aggressività questo lato oscuro di lui funziona funziona sicuramente la performance è buona ci sono vari momenti dove ti fa molta pena Harvey sicuramente la serie poteva prendersi di più il suo tempo però nel mostrarci che aveva questo lato oscuro latente in qualche modo magari o nel come dire anche nel mostrare che era amico di Bruce perché in queste ultime due puntate si trattano come se fossero amici di vecchia data e nel corso della serie questo non si è visto più di tanto e funziona vi ripeto ma funziona come funziona nel Cavaliere Oscuro di Nolan dove a me piace ma è un po' improvviso l'improvviso cioè il lato oscuro di Harvey viene fuori un po' all'ultimo ok sarebbe traumatico per tutti però diventa proprio uno psicopatico ha un'altra personalità fondamentalmente e questa cosa dovresti dare degli indizi prima e secondo me è stato fatto meglio molto meglio nel lungo Halloween e il fumetto è stato fatto molto meglio nel cartone animato degli anni 90 ed è stato fatto molto meglio nei videogiochi Telltale forse la mia versione perfetta di Harvey Dent e funziona qui avrei voluto che avessero seminato qualche briciola prima hanno seminato tutto ciò che riguarda la corruzione di Harvey hanno anche fatto capire che non è cattivo perché ha un lato altruistico è più che ha perso la speranza di poter far fare il suo lavoro in modo solo onesto ci sta ci sta potevano renderlo un pochino più efficace se facevano delle cose prima detto questo la sua crociata per la vendetta mi è piaciuta è interessante perché fondamentalmente mostra a Bruce mostra a Batman quello che potrebbe essere lui se non stesse attento lo fa sentire in colpa perché si sente in parte colpevole di questa trasformazione perché ha spinto troppo Harvey e quello mi è piaciuto mi piace come reagisce Barbara alla situazione che cerca di aiutare Harvey che è sempre stato il suo rivale ma Barbara è una bella persona e crede che Harvey abbia bisogno di aiuto e quello mi è piaciuto quindi tutto quello l'ho approvato e queste puntate mi sono piaciute tanto queste ultime due sono le mie preferite insieme a quella della vampira perché è la conclusione dell'arco narrativo di Bruce in questa serie in questa stagione perché praticamente Bruce qui è dove si rende conto di aver preso una direzione sbagliata da certi punti di vista e viene fuori questa rabbia latente c'è una delle scene migliori dove prende una pistola e sta sembra per sparare a Fluss su uno dei poliziotti corrotti e io non ho mai pensato che l'avrebbe ucciso ma mi ero un attimo chiesto se magari non gli avrebbe sparato tipo a una gamba perché è una cosa che Harvey ha fatto in questa puntata in queste due puntate e dico magari fanno un parallelo e il parallelo è simile ma non succede e invece gli spara intorno per mettergli paura per fargli capire quanto è brutto avere una pistola puntata poi gli dà un cazzotto e butta con disgusto via la pistola lontano da sé mi è piaciuto molto e Batman le pistole gli dovrebbero fare schifo qualsiasi versione di Batman a cui non danno fastidio le pistole è inferiore alle altre dal mio punto di vista e mi è piaciuto molto quel pezzo l'ho provato molto mi è piaciuta tantissimo la fine dell'arco narrativo tra lui e Alfred in questa stagione ovvero che lui ha trattato Alfred con molta freddezza per tutta la stagione lo chiama Pennyworth non lo chiama neanche Alfred e la serie finisce con lui che dice grazie Alfred c'è proprio questo sforzo dalla parte sua alla fine di cambiare comportamenti che ha tenuto per decenni comportamenti malsani dovuti al trauma e l'ho apprezzato vi ripeto è simile alle cose di Pattinson nel suo film in quel film è fatto meglio io ho trovato l'arco narrativo di quel Batman estremamente più soddisfacente di questo questo è ok è buono funziona quell'altro nel film di Reeve l'ho amato qui l'ho apprezzato lì l'ho amato comunque funziona il fatto che Harvey sia morto mi lascia un attimo perplesso perché credo si potesse redimere senza morire detto questo è un sacrificio nobile e mi è piaciuto molto il suo rapporto con Barbara in queste ultime due puntate l'ho trovato assolutamente valido e è buono il punto finale che raggiunge questa stagione in cui Batman ha capito che deve cambiare un po' atteggiamento il suo rapporto con il Gordon e Montoya è più solido di quanto non sia stato in tutta la serie il suo rapporto con Alfred inizia a essere meglio e finisce con lui che praticamente sfonda il vetro di Thorne con un Batarang e gli fa capire ti tengo d'occhio io sono qua non vado da nessuna parte con il lampo dietro come citazione del cartone degli anni 90 benissimo apprezzato moltissimo tutto questo ottima puntata io le ultime due puntate le considero quasi due parti dello stesso episodio diciamo che i due episodi di due facce e l'episodio della vampira sono i miei preferiti appena sotto quello di Clayface buona conclusione l'ultima cosa di cui devo parlare a livello di trama è che finisce con un piccolo cliffhanger un piccolo epilogo dove vediamo Joker e ragazzi amo il Joker amerò sempre il Joker è tra i personaggi preferiti di sempre è il mio cattivo preferito di Batman detto questo capisco la critica di quando la gente dice sempre il Joker sempre il Joker se non ci fosse stato mi sarebbe andato benissimo il fatto che c'è non mi crea problemi spero solo che non abbia un ruolo troppo troppo presente nella seconda stagione spero che ci sia che sia il cattivo di un paio di episodi ma che non sia una stagione dedicata a lui come nemesi principale perché non c'è bisogno secondo me la scena è efficace lui che sta testando il suo siero della risata sulle cavie mi è piaciuto la voce è molto profonda molto diversa dalla solita voce del Joker che apprezzo è esattamente qui che dovresti provare una voce completamente nuova il design non si vede si vedono solo gli occhi io sospetto che sarà molto simile al primissimo design di Joker la primissima comparsa di Joker in Batman numero 1 del 1940 quindi con quel volto strano cioè ghignante è tutto ma anche più serio del solito e io penso che potrebbe essere una cosa del genere ma vedremo e comunque è un ottimo modo di finire la prima stagione e questa è è stata un po' la mia carrellata Caped Crusader è piaciuto lo approvo 8 su 10 buona serie sono contento di com'è finita sono contento di una serie che finisce meglio di come è iniziata se una cosa inizia perfetta e finisce perfetta ben venga ma sarà sempre meglio una cosa che inizia un po' più debole e migliora man mano che una cosa che inizia bene e poi finisce con una conclusione deludente ne ho viste troppe ultimamente di serie tv che fanno così e invece no io sono felice di com'è finita e voglio vedere la seconda stagione voglio rivedere alcuni di questi personaggi voglio vedere cosa fanno e voglio vedere chi altro ci mettono e come lo interpretano faranno una versione anni 40 del cappellaio matto della corte dei gufi di maschera nera io queste cose le voglio vedere e spero sono molto curioso di vedere che cosa faranno quindi sì io approvo decisamente e niente fatemi sapere voi cosa avete pensato se vi è piaciuta se non vi è piaciuta perché se ci sono delle cose di cui non ho parlato chiedetemi nei commenti e vi dico perché non mi sono segnato ogni singolo dettaglio di cui si poteva parlare e niente spero che a voi comunque sia piaciuto e come dire è bello avere un nuovo cartone da seguire molto devo dire mi è mancata come cosa una serie animata che mi piace del personaggio i film animati degli ultimi tempi mi hanno un po' deluso non mi è piaciuto il lungo Halloween particolarmente con l'universo non mi ha preso più di tanto come l'hanno gestito quindi questa è la cosa più soddisfacente di animazione da un bel po' da un bel po' per il mio punto di vista e niente fatemi sapere cosa ne avete pensato voi e statemi bene grazie